Ciao a tutti ragazzi sono DJ Razelix e bentornati su Uncharted 4. Anche oggi vi parlerò di un trofeo nascosto e anche questo si ottiene nel capitolo undicesimo, precisamente quando abbandoniamo la torre. Questo trofeo si chiama il bello della diretta e per ottenerlo dovete rimanere esattamente 30 secondi prima che inizi l'inseguimento in città. Poi direte perché questo trofeo è un po' stupido come trofeo? Beh la Naughty Dog ha voluto prendere in giro se stessa perché durante le 3 dell'anno scorso, quando hanno appunto presentato la demo di Uncharted 4, la prima demo giocabile vi ricordo, il gamepad si era spento durante la diretta appunto per i famosi 30 secondi. Ecco una volta che finisce la cutscene che state vedendo e riprendete appunto in mano la situazione e potete usare Naughty Dog, dovete stare fermi, immobili per 30 secondi, esattamente in questo momento. Finché il trofeo non lo vedete comparire in alto a sinistra come tutti i trofei della PS4. Ragazzi per questo trofeo è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazio perché di giorno in giorno aumentate e mi raccomando ragazzi diffondete appunto il mio canale tra i vostri amici, i vostri conoscenti, i parenti, insomma dove volete. Vi ringrazio per l'attenzione, un saluto, il vostro DJ, alla prossima ragazzi! Vi ringrazio per l'attenzione, un saluto, la prossima ragazzi!